Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova puntatona della nostra Pixelmon Qui c'è, a proposito, sto coso mi fa davvero schifo, devo essere sincero Allora ragazzi, ho scavato un sacco in off camera Una cosa però devo dirvi prima di iniziare l'episodio, prima di parlarvi delle cose che ho scavato Ho ucciso un boss che mi ha droppato, tipo, solo a raggio Ehm, poiché altro, Vampata mi ha droppato E, credo, ehm, Nemesis e Grand, ehm, Cordileone, credo, una cosa del genere Comunque un'altra, un'altra MT mi ha droppato Oltre a questo mi ha droppato anche un globo neutro Era un boss, ehm, di quelli potenti, quelli che arrivano tipo a 100 e passa livelli Infatti era tipo 120, credo, ed era potentissimo Però l'abbiamo ucciso facilmente, più o meno facilmente, diciamo che è morto un po' di persone che sono morte E mi ha droppato anche questo globo bello bello carino che dovremmo usare E quindi ragazzi miei, ora cosa ci tocca fare? Fare un petratuono e farci il coso qui, quello potenziato, il globo statico Ovviamente ricordo una cosa, le cose che ho recuperato nella questa puntata dal boss Le ho buttate, perché ovviamente come qualcuno mi aveva scritto nei commenti Potevo uscire dal gioco, però non ne sono ricordato questa cosa Poi ho andato comunque a parlare con gli altri E ovviamente me l'hanno ricordato Quindi ho buttato tutto il resto, ciò che mi ha droppato E ho lasciato semplicemente nient'altro Cioè, non ho lasciato niente, ho trovato l'altro boss E ho droppato questo globo Quindi finalmente abbiamo un globo statico Che servirà per Zapdos Ora, la cosa che ci interessa è che Xander mi ha detto Che se io gli do un altro globo normale Lui mi darà le posizioni di Zapdos E del nostro Shiny Zapdos, perché lui già ce l'ha E la cosa che mi servirà è perché voglio buttare Charizard e tenere Zapdos Quindi, ehi, potrebbe essere un'ottima idea Anche perché, sinceramente, wow Sarebbe davvero un buon Pokémon da tenere in squadra Quindi, ehi, si potrebbe fare Però, ovviamente, una cosa che voglio fare adesso Adesso, e per tutto andare a vedere se posso vedere questa roba Però, forse lo faccio nella prossima puntata Voglio, per il momento, fare una cosa molto semplice Andare fuori Far livellare il mio Charizard e il mio Bills A 1995 per questa puntata Per il semplice motivo, ragazzi Che siamo a domenica Quindi oggi è l'ultima giornata che posso espare in Pokémon Quindi vorrei almeno portare un altro Pokémon 55 per forza Quindi, o Charizard o Bills E, se possibile, almeno farei volvere Marshtomp Che, porca vacca, è rimasto qui semplicemente fermo Senza poter fare nulla E mi dispiace un pochetto Perché è un buon Pokémon E fa un bel po' di danni Quindi, perché non lo sto facendo evolvere? Non lo so Oltre a questo, la prossima puntata Vorrei anche sistemare casa Perché da un po' che non lo sto aggiustando E se è possibile, anche fare un po' di cosette Per quanto riguarda la nostra ferrovia qui Quindi, dovremmo un po' lavorarci Ma, non credo ci vorrà molto per queste cose Quindi, andiamo subito a spare, velocemente Eccolo qui Un bel Pokémon carino da uccidere Per esempio, c'è un Azurmabie Marrow Molto carino A livello 40 addirittura Ma che cosa? No, Azurmabie li vuole catturare in realtà Però non è granché bello Sicuramente, io aspetto un Pokémon molto carino ragazzi Che vorrei expare Vorrei, beh, vorrei expare Più che altro vorrei prendere per forza Nel mio team E, eh, quest'ultimo è Ludicolo Ludicolo per esempio sarebbe un buon Pokémon Da tenere in squadra Perché era un tank dalla Madonna Era strabello Giocavo un botto Lo giocavo Quindi, ehi Fatemi uscire Ludicolo Che al momento non c'è ancora nella Pix Quindi, magari l'1.8 lo metteranno Speriamo Speriamo davvero così Magari per la terza stagione potrebbe essere un'idea Mettere Ludicolo nella serie Che, chi, chi lo sa Chi lo sa ragazzi Ed eccolo qui Un Ursa Ring Bello potrete da uccidere E ricordiamoci una cosa ragazzi Mi ha detto che Se faccio Palmo Forza Dovrei shottarlo tranquillamente Perché è super efficace Quindi, nice Ovviamente però Pochi Oddio Poi è andato a dormire So stronzo Dai, muori Ok E ci dà un drop Un sacco di livelli Forza Sfera ragazzi Eccola qui Quella che cercavamo La mettiamo al posto di Calmamente Perché Più figa Più bello Perfetto Bam Ed ecco la seconda La seconda Mossa che devo imparare E la imparava al 51 Ok La prossima la impara al 56 Che credo sia Zuffa Credo L'ultima mossa Ed è l'unica mossa In realtà Che ci rimane Di tipo Vabbè In realtà no Palmo Forza Anche è una mossa Che ci rimaneva Andiamo un po' Era Era psichico Palla Ombra Forza Sfera Ah giusto Devo levare Palmo Forza E lasciare Zuffa ragazzi Questo qui Ok È infallibile Quindi per quello Che la mettiamo In sostanza E anche Tutto il resto è speciale Tipo vedete Questo può essere speciale 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 E questa invece È l'unica mossa Che abbiamo ancora Di tipo normale Ora metteremo Zuffa Quando lo imparerà Il nostro Piccolo Bills Slash Lucario E poi saremo a posto Ho dato la caccia A un bel po' Di Zrobro Sto cercando di ucciderne Un po' qua vicino Ma sono parecchio pochi Ultimamente Quindi Cosa sta succedendo Zrobro Ricordate la stessa serie Tipo li ho fatti estinguere Perché tipo Non si sa quanti ne ho uccisi Uh ciao No Vieni qua Fatti pigliare Mazzate dal nostro Pallombra Bam Massacrato Perfetto Come vedete è livellato Anche al 53 Quindi manca davvero poco E con l'Zrobro Ok E credo che le VS Che ho al momento Diamo un po' Sono massimi Ragazzi Ok Massimo raggiunto Di VS Di attacco C'è l'87 Quindi dovrò usare Le nostre bacche Per poter scendere Di VS Poi normali Quindi Ci vorrà comunque un pochetto Vedete quasi Quasi Devo shottare i tizi Qua l'Zrobro Però Devo comunque trovare Quelli un po' più alti Di questi Perché questo è livello 40 Qualcuno verso il 50 Ciò è un po' difficile Magari però verso 45 49 Una cosa del genere Ci sta comunque Ok Mi manca davvero poco A livellare Credo che se riesca a uccidere Questo Gloom Dovrei farci qualcosa Oddio Psicolo è finito La pallombra Andiamo dai Va bene comunque Ok Pallombra ancora Bam Ok Ed eccolo qua ragazzi Zuffa Ok la parola è 55 Va bene Palmo forza Va via Perché ormai Non mi serve più E abbiamo Il nostro Zuffa Che è anche certo per certo Quindi Wow Ok ragazzi Abbiamo tutte le mosse Necessarie Al nostro bellissimo Build Finalmente abbiamo il secondo pokemon A livello 55 Di questa settimana Anche se è domenica Direi che comunque è stata una buona Cosetta Ok Adesso è tempo di fare expare L'ultimo pokemon Che ci rimane per oggi Che è il nostro Mushtomp E so anche un bel posticino Dove farlo evolvere Facilmente Ok ho deciso un attimo Di cambiare quel Mushtomp Col mio Swampert Che ho catturato Per sbaglio Tipo Un po' di tempo fa E l'ho scelto Per un semplice motivo Ragazzi Questo Swampert Ovviamente non ha mosse Oddio Ha mosse di merda Però parliamone Ok Ha mosse di merda Va bene Però le stats Non diminuite Nessun tipo Ovviamente Tipo Non ci andava bene L'altro Però Pensandoci adesso Fa abbastanza cagare Quest'altro Tipo Almeno questo Ci ha visto l'acqua Ragazzi miei Cioè Almeno visto l'acqua Ce l'ha Col po' di fan Che ho visto l'acqua E però Come vedete Le stats diminuite Di attacco speciale Però la difesa speciale Forse è utile Sapete Ma così Se teniamo questo Ma sti cavoli Ok Facciamolo evolvere Nel posticino Più bello del mondo Però prima di tutto Visto che ci siamo qua Veniamo un po' A questo livello Bassino Tipo In genere In ponita Ok ponita Livello 37 Dovremmo shottarli Tranquillamente Con nostro pistola Acqua Anche se è una mossa Di tipo speciale Però sti cavoli Oddio infatti Non fa niente Colpo di fan Quanto potrebbe fare male Però sono entrambi Mosse di tipo Speciale Potrei imparare I potenziali terremoto Ragazzi Terremoto deve fare Un bel po' di male Al piccolo amico E credo di No credo di non averlo Per nulla Eh infatti è morto Che palle Credo che non abbia Per niente terremoto Quindi lasciamo stare Va attacco d'ala Bam Oh livello 50 Perfetto ragazzi Abbiamo tutto necessario Qui Molto velocemente E Eh Un bel problema Perché in realtà Il nostro bel po' Come fa abbastanza cagare E devo farlo expare In un posto carino Però mi serve Una mossa Di tipo Acqua Normale Quindi quasi quasi Vedete che faccio Vado a vedere Solo i soldi Qui dentro Un 100 Più 60 Non ce la farò mai Ok vado a recuperare Un po' di oggettini E ci vediamo Fra poco ragazzi Ragazzi Prima di chiudere l'episodio Vorrei fare una cosa Molto semplice In realtà due cose Molto semplici Che sono Prima di tutto Mettere questo gold pack Nella crafting Per un semplice modo Ivo Ovvero Farmi finalmente Questo Oh Diamond backpack Ragazzi Molto più figo Molto più grande E continua Molto più roba Ma voglio comprarmene Anche un altro Quindi facciamoci Giusto un altro Pezzo qui Di diamante Perfetto E Devo andare a vendere Un po' di roba Avete consigliato di prendere Tutti Questi blocchi di quarzo E andarli a vendere In realtà tipo valgono un botto Quindi why not Vendiamo tutto Senza troppi problemi Li mettiamo per il momento Dire qui dentro Tutto lo spazio ce l'abbiamo Perfetto E vediamo un po' Quanto ci guadagniamo Anche perché In termini Quantità di vita Abbiamo un casino Di quarzo Quindi Perché non buttare Tutto lì dentro Senza troppi problemi Bom 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 E credo di averne ancora altro Guardate quanti ne abbiamo Ma che cristo Sono malato di quarzo Ragazzi Malato davvero Che credo sia finito Abbiamo un'infinità Di quarzo Qui dentro E tutto questo Lo andremo a vendere adesso Per poterci cavare Un paio di cosette Allora ragazzi Guardate qua Guardate qua Bello Ok aspetta Questo è tipo normale Quindi C'è bellissimo C'è bellissimo Cattaro vieni qua Livello 80 Vabbè Quello molto Sprutto E vabbè Facciamo uno zuffa Vediamo un po' Vi proviamo un attimo Zuffa Una nuova mossa Vi ho imparato Guarda È stra potente Ragazzi Forza spera Dovrebbe essere Un croce più potente Perfetto Ho troppato Carbonella Ricreca totale Un altro globo Perfetto ragazzi Lo daremo a Xander Finalmente E lui ci dirà Dove è Zapdos Quindi Ehi Dobbiamo forza Spare velocemente Questo globo Per poterlo dare Poi a Xander Il resto Lo buttiamo Non ci serve Ok Andiamo verso il centro Del mondo Bene Eccoci qua Vediamo un po' Prenduto quanto Riusciamo a guadagnare Col nostro quarzo Spero abbastanza Sinceramente Almeno possiamo Fare tante cose Guardate quanto Ne abbiamo Un botto Cos'unque possiamo Lasciare qui dentro Anche queste due cose Perfetto E vediamo un po' Col quarzo Dovremmo farci tipo Ah beh Beh però Non è tanto conveniente Perché tra i dati di quarzo Ci dà 5 Ci può fare una cagata Grazie Xander Per questi prezzi Piuttosto belli Vabbè però Mi sembra anche giusto Il quarzo Lo trovi così a muzzo Abbastanza in giro E principalmente Io lo prendo comunque A prescidere Non è che dice Vabbè lo faccio per i soldi No lo faccio per i soldi Perché mi dà Experienza a go go Quindi why not E abbiamo Sessato uno di questi Ok vediamo il resto Ragazzi Abbiamo un'infinità di monete Tipo guardate qua abbiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Stack Da 5 euro Questo significa Facendo un conto Più o meno Semplice Sono più o meno Più di 300 Sì sono 300 Eh Vabbè sì Un bel po' comunque E trasformiamo di tutto In 50 credo No Tutto in 10 euro Credo Ho sbaglio No Mello in 100 Teniamo direttamente a 100 Ok Dovrebbero Eh Sono 17 Por cacca Ragazzi Sono tanti Sono 1500 E passa 1700 Sono Perfetto Ok Va benissimo Perché Perché ragazzi Per un semplice motivo Qui c'è uno Zorua carino Per un semplice motivo Devo comprarmi tutto Uno Zenetto Che costa 500 Credo sia Sopra Un'altra upgrade Perfetto Quindi upgrade Allora Uno Zenetto Che costa 500 E poi Anche Dov'è Dov'è il più piccone Qua Ok Qua Un altro piccolo 500 Perché voglio Incentarlo Voglio vedere Se riesco a trovare Almeno Fortuna 3 Perché sarebbe Un'ottima idea Il resto Lo lasciamo qui dentro Perché tanto Alla fin fine Ci servono i money Perfetto Ovviamente Devo mettere a cuocere Tutto Questo ferro Questo oro Quindi ci vediamo Fra poco Appena potrò Esparire tutto quanto Potrò tipo Prendere Lo so Zenetto In diamante Anche questo E ci vediamo Fra poco ragazzi Bene 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 Dovrei avere tutto necessario Sempre se ce la faccio Devo un po' Un blocco di oro Un blocco di ferro Perfetto E si va A prendere tutto Senza problemi Ok questo Questo qui Questo è la contrario Vero Questi servono due Vero Non so perché È l'unico Coso Che mi richiede Almeno due blocchi di oro Non capisco Davvero il senso Di questa cosa Perché dovrei fare Due blocchi di oro Là Un blocco di ferro Vabbè Mi sa che il crafting È un po' bugato Alexander ha cambiato E non si è accorto Di aver fatto un errore E devo poter aspettare Ragazzi Altri due di questi Per poter andare avanti Tra il tempo Questo è già pronto Quanto Perfetto Uno Me ne manca giusto L'ultimo Dai veloce Piccolo oro Dai Cresci Io credo in te Credi nel cuore Delle carte Yu-Gi-Oh Sì ragazzi Yu-Gi-Oh È ormai È un È un mito Nella mia infanzia Non lo so è vero Sono un idiota anch'io Doppiamente Non è che Sono scemo una volta Sono scemo due volte E abbiamo ufficialmente Due zaini Belli pronti Che fatti Ok Adesso va incienato Giusto l'ultimo piccone E tadan Ok Ok È un buon piccone Ma porca di quella vacca Fortuna 2 Ancora È che palle Ragazzi Che palle davvero Però potremmo Potremmo tenerlo e basta Ragazzi Lo teniamo qua Allora il tempo Vorrei vedere se riesco A fare giusto qua Cambiare il nome Ok Lo chiamiamo questo Minerali Ok Bam E questo qua invece Lo chiamiamo ragazzi miei Oddio Spero di non perdere la roba Che sta dentro Speriamo E questo lo chiamiamo Oggetti pixel Ok Perfetto Non dovevi aver perso la roba dentro Vero? Sì Perfetto E ragazzi adesso abbiamo Un inventario bello pieno Per portare roba Allo shop Quando dobbiamo vendere le cose Quindi Yeah Figata Ragazzi noi ci vediamo nella prossima puntata Della pixelmon Vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Come sempre vi invito a lasciare un bel like Raggiungiamo i 2000 like Sì 2000 like Forse sono un po' Ecessivi Però Ehi Raggiungiamoli E ci vediamo nella prossima puntata Ciao ragazzi Nel prossimo video Ciao